Ricordo di piste. Chiara Maturi, Madonna di Campiglio. Facciamoci un po' una bella discesa in questi pochi minuti. Senti, la tua fantasia mi pare che conviviate molto bene insieme. Sì, direi di sì. Che cosa ti aiuta a fare la tua fantasia? Tante cose particolari, secondo me molto... che non sono anonime, che riesco a distinguermi più o meno. Non ti senti omologata? No, infatti, anzi cerco di staccarmi da un po'. Beh, della tua immagine indubbiamente riesci a lanciare un messaggio. Il messaggio che potresti lanciare a noi per convincerci, oltre alla tua immagine, e poi ci spiegherai il tuo operato, il perché di doverti scegliere nei 15 concorrenti. Amo il mio lavoro. Non penso di dover dire amo il mio lavoro, cerco di dare il meglio. E si vede. Bene, raccontaci allora il tuo operato. Quando l'ho vista mi sono ispirata subito al musical Grease, vedendo lei... È stata la prima cosa che ho pensato quando ci hai portata. Sì, com'è molto classica lei, soprattutto nell'ultima scena che si trasforma da classica. Ti puoi girare? Girati completamente. Grazie. Hai curato tu anche il make-up? No, me l'hanno fatto loro. Ho chiesto proprio nel musical, lei era molto leggera, comunque ho ottenuto i colori della primavera, il marrone, abbiamo deciso un po' di più la riga e il rossetto rosso. Senti, e questo bello outfit che è molto adatto a lei, lei ha le gambe lunghe, slanciate, insomma l'immagine che vediamo è molto bella, è tutto, esce tutto dal suo armadio, dal suo guardarobio o hai fatto ricerca? Quasi tutto, sì, quasi tutto suo. E il foulard, il polso? La modella si piace, è vero? Sì, è molto bella così. Io leggo sulla scheda che il tuo vero divertimento è stare con tua figlia. Sì, la vedo talmente poco che quei pochi momenti che ho sto con lei. È un piacere. Sulla neve, a casa e in negozio. A casa e sulla neve. Un bel divertimento. Certo. Con i tuoi collaboratori hai un buon rapporto? Ho un bellissimo rapporto, sì, molto. Perché parli di Daniel che è cresciuto con te e ha il suo stile. Sì, perché lui ha iniziato quattro anni fa e faceva il cameriere. Ah, caspita. Ha pensato, gli piaceva, ha detto io voglio fare il parrucchiere, l'ho preso la prima stagione invernale, diciamo. Ha iniziato e da lì è cresciuto con me quattro anni e adesso sa fare quasi tutto. Infatti sono felicissima perché è bravissima. Guarda, il lavoro che hai fatto è molto d'immagine, molto stiloso. Tu sei altrettanto stilosa, il tuo make-up è bellissimo, quindi io proprio non ho niente altro da aggiungere. Ti ringrazio per la finita. Grazie a voi. Grazie. Grazie mille. Grazie.